I finanziari del gruppo della Guardia di Finanza di Gela nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne per il reato di detenzione illegale di un'arma da sparo. Avrebbero visto un'auto in sosta in una strada isolata dell'agro di Niscemi nel corso di un servizio di controllo economico del territorio. Alla vista della pattuglia delle fiamme gialle, l'occupante del mezzo si sarebbe dato alla fuga a piedi, provando a nascondersi in un campo coltivato nelle vicinanze. I militari avrebbero intimato l'alta e inseguito il giovane che all'altezza di una vasca per la raccolta delle acque, si legge nel comunicato, vi ha lanciato una pistola detenuta nei pantaloni. Il 23enne sarebbe stato raggiunto e bloccato e poco dopo recuperata anche l'arma, un revolver carico con sei cartucce. Dalla successiva perquisizione dell'autovettura, che sarebbe risultato oggetto di furto, sarebbero state rinvenute anche due maschere in plastica e tessuto, due passamontagne e una tuta da lavoro. Al termine dell'attività di rito, su disposizione del PM di turno, il giovane, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza, si precisa ancora nel comunicato, è stato tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguire, il giudice presso il Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto.